Buonasera a tutti amici di Professione LED, questa sera vediamo insieme il funzionamento dei tubi LED insieme alla loro plafoniera dedicata. L'installazione di questa plafoniera è davvero semplice, come potete vedere basta collegarla direttamente alla 220, ha il suo spinotto, quindi basterà solamente collegare alla 220 questo spinotto, inserirlo nella sua apposita zona di connessione, dopodiché potremo prendere il nostro tubo, in questo caso con 60 cm, metterlo, inserirlo come posizioniamo i normali tubi al neon, ed è qui che il tubo è perfettamente funzionante, basterà girarlo per spegnerlo, per poi se lo dobbiamo cambiare, togliere, insomma fare tutte le operazioni del caso, se no basterà inserirlo, ed ecco qui, il tubo insieme alla plafoniera è fornita separatamente dal tubo, il tubo non viene venduto singolarmente, e la plafoniera ha anche i due agganci per poter essere fissata al soffitto, al muro, su un mobile, dovunque ci può servire, questo ad esempio può essere fissato, mettere le due staffettine, e poi clac viene messo per illuminare la zona che ci serve, lo possiamo utilizzare in moltissimi casi. Ricordiamoci che sia il tubo sia la plafoniera non sono impermeabili, quindi non sono adatti per essere messi in sottocucine, in posti comunque umidi, ma vanno utilizzati in luoghi dove non c'è presenza di acqua e di umidità. Se avete come sempre altre domande da farci sull'utilizzo di questi prodotti, che sono disponibili anche in lunghezze da 120 e 150, quindi non solo da 60 cm, potete scriverci a infochiocciolaprofessionelette.com oppure dal nostro canale YouTube dei commenti, abbiamo anche la nostra pagina Facebook, oppure 049 93 56 21. A presto.